Eccola, la signora, la signora lei la conosciutissima, pure io che fa la sua spesa del pesce, che cosa hai comprato? Capitone! Capitone, ti piace il capitone? Ottimo, non ci vuoi andare a dare! Solo il capitone e basta? Ah, è, sono capitone, già trima! Come tessi, come tessi? Trimme Calamai, trimme la porrena, trimme la porrena, trimme la porrena. Calamai congelati? No, peschi, peschi, auguri, siamo ancora avanti all'olio, auguri, allora, hai comprato la tua spesa? Ho comprato a casa amici, no? Perché a casa amici? Con un'una da Napoli! Ho usato il numero da Napoli e... A casa amici sono molto eppici, allora vedi, si compra... Un'una da Napoli! Un'una da Napoli si compra al minore prezzo? No, 28 mila lire! 28 mila lire! Che cosa mi vuoi dire? Auguri, buon Natale! Ciao! Auguri, benissimo! Siamo avanti! Il Cavaliere, hai fatto la tua spesa? Mo se stai scendendo! Che cosa ti piace? Che cosa vorresti comprare? A noi un pasto di cielo e per me la pasto! Venga, auguri anche a te, buon Natale! Vediamo, vediamo, Salvatore, Salvatore, che cosa ci dice di questa vendita stamattina? Ma quello che devo dire, ce l'ha detto il tuo fratello, cioè si vende poco! Si vende poco, sì! La vendita non è sufficiente! Ma a foglio, però! Negli altri comuni? A casa amici sono una travasse! Si vende molto di più! Molto di più, sì! Questa è l'ora, diciamo, sono quasi sette e mezzo, l'otto, che i banchi dovrebbero essere quasi voti, invece sono completi, sono più! A casa amici, l'alto, c'erano i banchi sono voti, la gente comprando il giorno prima, il foriano è un abituale con il giorno prima! Quindi è una crisi, una crisi foriana! Forse solo foriana la crisi! Come vogliamo dire, questa c'è l'alto di forino, pesce per pesce, noi dobbiamo comprare l'alto che parla di più, la gente di forino, diciamo! E la gente si deve comprare l'alto di l'alto, comprare il panno via, comprare l'alto! Bene, comunque, auguri e buon Natale! Speriamo che le cose valino meglio fino a mezzogiorno! E mentre invece, qui vediamo dei pesci favolosi! Sono delle... Senti, mi dici un po' che pesci sono questi! E si vengono, mi hanno indurso un'attima o no? Insomma, adesso ci hanno bisogno, il tuo pescino! E la vendita? Ma penso che sarà bello, penso! Però è incominciata la giornata male? No, male non è, penso che male non è! Il prezzo di questi quant'è? No, stiamo su, diciamo, 12.000 litri! 12.000 litri! In vero, poi se mai se lo facciamo a pezzi, cosa è lì? In giro non c'è più un interio, ma allora, se è in vero, diciamo, 15.000 litri! Parliamo sempre di pesce fresco, vivo! Penso che si vede, diciamo, di noi! Questo è il pesce vivo! Questo è l'unico, diciamo, rimasti, diciamo, due, di FZ da qua! Ci siamo andati a pasta 10, poi c'è un altro pescatore! Provare! Questi... Dunque, questo è un pesce mastodontico, addirittura... Com'è? Lo tagliate a pezzi o lo rendete per intero? Questo lo rendiamo perso! Tagliate a pezzi? E' difficile, guarda, non lo so se non mi rimane di questo qua! Niente! I berchi stanno chiusi, quindi praticamente... Qualcuno l'ha aperto, abbiamo anche l'argomento di scuola qui! Bene, tanti auguri e buon Natale! Grazie!